mister lucarelli condizioni della squadra direi buone direi buone abbiamo recuperato praticamente quasi tutti gli effettivi ora valuteremo laverone se almeno per un posto in panchina potrà esserci poi per il resto tutti facendogli scongiuri tutti bene siamo nel quasi al rush finale del campionato il prossimo è un avversario una squadra costruita per vincere sì sì credo questo sia sotto dall'inizio sia stato sotto gli occhi di tutti tutti giustamente davano il bari come favorita di questo di questo raggruppamento poi purtroppo per loro diciamo non non ci sono questi pronostici al momento non non sono stati rispettati e però nulla toglie a una squadra fatta di grandissimi giocatori per la categoria per la categoria di grandissima qualità una piazza blasonata con un bacino d'utenza impressionante e quindi è ovvio che domani sarà una partita dove per fare il risultato positivo sarà da sudare le cosiddette sette camicie